Concluse ieri le indagini sullo sbarco registratosi lo scorso 24 giugno, che ha visto 450 persone salpare su quattro gommoni e che ha permesso agli organizzatori di incassare quasi 400 mila dollari. La polizia giudiziaria ha fermato altri due scafisti, entrambi senegalesi, di 20 e 30 anni. Entrambi risponderanno del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono i comandanti di due gommoni soccorsi in acqua e antistanti le coste libiche, ma partiti da due spiagge diverse. Dalle indagini è emerso che entrambi si sono offerti agli organizzatori, libici, per condurre i gommoni in quanto avevano una pregressa esperienza da pescatori. I migranti anche questa volta erano stati stipati in grandi capannoni, in attesa di partire, e quando le condizioni del mare lo hanno permesso, sono stati subito fatti salire a bordo di gommoni carichi oltremodo per poter guadagnare il più possibile. Anche in questo caso sono numerosi i minori non accompagnati e tante le giovani donne nigeriane che la squadra mobile sta ascoltando per comprendere se erano già destinate al mercato della prostituzione. L'attività di indagine svolta in tal senso dalla Polizia di Stato, infatti, ha permesso negli ultimi mesi di disarticolare organizzazioni criminali transnazionali di rilevante caratura criminale. I trafficanti di esseri umani rispondono del reato di tratta che prevede pene elevatissime, ma nonostante questo il fenomeno non tende a diminuire per via degli enormi guadagni dei criminali. Con il fermo dei due senegalesi sale a 78 il numero di scafisti fermati dall'inizio dell'anno, tra questi ben 19 sono minorenni.